Giovanni Legnini, a distanza di pochi mesi dal risultato in Abruzzo, quello nazionale ricalca lo schema per il centrosinistra del campo largo. Qual è la valutazione sul risultato di Zingaretti, del Partito Democratico e dei suoi alleati? Il risultato è nettamente positivo, questo è sempre più evidente, una crescita di quattro punti rispetto al risultato dello scorso anno, un sorpasso sul Movimento 5 Stelle di oltre 5 punti, pur in un contesto di forte affermazione della Lega, di vittoria netta della Lega, che costituisce un'anomalia in un contesto europeo nel quale le forze socialiste, progressiste, liberali, ambientaliste, si sono affermate e hanno garantito e garantiscono una rappresentanza e una maggioranza parlamentare nel massimo consesso elettivo europeo. In Abruzzo questo schema bipolare, anche qui con un ridimensionamento dei 5 Stelle, non ha portato però a una grande affermazione del centrosinistra, anche in città che amministrava. Qual è, a suo avviso, il passo da compiere per tornare a vincere? In Abruzzo ci sono luce d'ombre, le prime sono l'aver ricalcato la tendenza nazionale di incremento, seppur più contenuto, del campo del centrosinistra, le ombre sono rappresentate dai risultati delle elezioni amministrative, comunali, un risultato, c'è poco da nasconderlo, molto deludente, frutto da un lato dell'ondata di centrodestra, della Lega in particolare, che si è affermata pienamente nella nostra regione, per altro verso in alcune realtà da una frammentazione francamente non comprensibile per scelte esclusivamente locali. Abbiamo vinto in alcuni comuni, anche significativi, importanti, Pineto ed altri. A Pescara la candidata Marinella Sclocco ha fatto una bella battaglia, le liste hanno avuto un buon risultato, se ci fosse stata meno frammentazione in quella città così importante, la prima città di Abruzzo, forse staremo al ballottaggio. Ma tant'è, bisogna ricominciare da qui, dallo sforzo generoso che moltissime candidate e candidate hanno già prodotto alle elezioni regionali, moltissime lo hanno fatto nelle elezioni comunali. La direzione di marcia è quello che avevamo indicato qualche mese fa, un'alleanza larga tra progressisti, liberali, ambientalisti, forse civiche, un rinnovamento profondo dei metodi e dei contenuti della proposta politica e potremo riprendere il cammino. È il tempo di una ripartenza forte.